Ragazzi e benvenuti qui sono noi, io sono Trollmaster06 e oggi sono qui sul nuovo video Raga Indovinate che cosa è successo Sto a 11 iscritti E come promesso farò uno speciale Di 4 episodi Farò uno speciale di 4 Farò uno speciale di 4 episodi Non so se li farò tutti e 4 oggi Probabilmente li farò 2 oggi e 2 domani Raga questa è la seconda prova Che sto facendo per sto video Perché Perché prima Ho messo la mano davanti all'audio Grazie Grazie sono un mostro Qua vediamo mio fratello Che gioca a Minecraft A Minecraft A Minecraft Allora Il mio fratello in questo momento è miniera Ninja che stai facendo? Che fai? Bene mio fratello ricchione Raga Quora sto Cioè sto Sto a casa Non è che posso fare Chissà che a casa Devo andare un attimo Non è successo Wow Ho 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 dragging Ho 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 per l'accesso aspettate vado raga in estate non sai quanti video che devo fare la mamma mia il pantalone a wallera vaga scrivete qua sotto quale altro tipo di video volete fare cioè volete che faccia io una cosa che vorrei fare e sono le challenge mi piacciono un sacco le challenge adesso diamo un'occhiata a qualche altra cosa ovvero l'album dei calciatori raga io vado direttamente al napoli perché sono le due squadre che è quasi finito e poi alla serie B vi faccio vedere tutta va bene? ok raga del napoli guardate quanto sono belli allora se non vi credete io ho Sepe Ic Maximović Kulibarino Albioli Kirikesh Strinic Giorginio Iussai Goulam Dielischi Lorenzo Insigne grandissimo Manolo Gabbiadini che se ne è andato Alsa Tempton e Arcadius Milic che può ritornare a giocare presto adesso andiamo alla Roma porca troia raga la Roma è la mia seconda squadra preferita guardate la Roma è quasi completata praticamente è stato che odio gli album quando fanno così si rompa la pagina è sempre la Roma che cazzo la fanno sempre più centrale sta Roma sta Roma allora grande Esciadali grande Totti grande Teruzzi grande Nengolani grande Shesmi grande Salah grande Florenzi grande Manolas grande Shesmi e anche grande Nermale e anche grande Giuseppe e Kevin Stroffman va bene va e c'ho ancora grazie 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 un saluto un saluto un'altra volta a Vincenzo che è un gran coglione la sorella cioè guardate fai vedere un attimo con tutta quella legna cioè raga fai vedere un'altra volta tutta quella legna sono stronzo sono stronzo cioè aveva 5 stack da 20 da 20 però non da 64 comunque sono 2 stack più o meno bella grazie 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 grazie